buongiorno a tutti allora come deciso insieme a luigi faremo un discorso un po sull'asola perché l'asola l'asola perché abbiamo bisogno di utilizzare diversi tipi di materiali e l'asola ci aiuta ad annotarli intorno al lamo per me è importante molto insomma il discorso che ha fatto paolo e lo riprendo molto più alla larga un po su tutti i materiali cioè quello della di selezionare i materiali di guardarli di toccarli di immaginarli perché quando siamo su fiumi diversi le situazioni magari gli insetti possono essere gli stessi con leggere sfumature diversi ma magari anche l'acqua è diversa e quindi magari un montaggio un insetto che va bene su un fiume magari su un altro fiume può avere una lo stesso insetto la stessa imitazione può avere un atteggiamento diverso in acqua per questo è importante conoscere diversi tipi di materiali e come insomma usarli un esempio stupido ho portato parliamo di cul de canard cul de canard ne ho portati quattro esempi diversi tutti conosciamo penso il cul de canard questo qui della swiss no che ha delle barbule veramente molto molto folte con dei calami grossi oppure c'è il cul de canard con barbule e calami finissimi molto esili come questo ad esempio se si vede si vede bene facciamo altri due esempi questa è una via di mezzo un'alta qualità oppure c'è addirittura il puff non so se lo conoscete questo immagino di sì questo è un cul de canard particolare ottimo ottimo per fare ad esempio le spent perché dico questo per quello che diceva all'inizio perché magari se io mi trovo in un tratto torrentizio ho bisogno di molta galleggiabilità dove l'acqua è veloce magari andrò a utilizzare un cul de canard che ha delle barbule ricche di piccole fibre se vado invece su dei chalk stream se vado su delle acque lente magari avrò bisogno di avere un cul de canard più esile più rassomigliante alla mosca e questo insomma un po per tanti discorsi prima abbiamo fatto un super focus sul pelo di cervo poi ha portato soltanto un paio di di selezioni da un premium elk molto molto sottile e fine ma lo stesso elk probabilmente come abbiamo parlato con paolo di un'altra preso magari in un'altra stagione e in un'altra parte del corpo risulta essere molto molto rigido e ispido quindi tutto questo per dire cosa che come abbiamo gli occhi aperti sul fiume a guardare gli insetti e quello che succede sull'acqua sotto il pelo dell'acqua la stessa cosa secondo me c'è da farlo con i materiali toccarli guardarli usare tutti i nostri sensi per insomma cercare di immaginarli e farli diventare gli insetti che vediamo e percepiamo sull'acqua e quindi questo per il discorso asola l'asola semplicemente ci aiuta a poter annotare intorno al nostro amo tutti i materiali che vogliamo e di cui abbiamo bisogno comincerei subito con una una cosa quasi banale che è quella magari di fare un corpo in asola col dubbing semplicissimo perché faccio questa cosa perché da un socio del nostro gruppo qualche tempo fa mi chiese alessandro ma secondo te com'è stata fatta questa mosca andiamo a vederla facciamo un corpo che io uso moltissimo in asola perché facciamo il corpo in asola con il dubbing per la resistenza perché è molto e anche per la imitatività forse ho fatto un'asola un po' corta però vabbè tanto è soltanto così per esplicativa quello che andrò ad utilizzare è un dubbing emerger un colore un po' attrattivo io ci faccio i tricotteri principalmente e non facciamo altro che inserire il dubbing così come nell'asola però è una cosa molto veloce gli do veramente come vedete modo brutto gli do una avvicinata una costata ok può anche bastare vado a girare e come vedete adesso si creerà un cordoncino che nel momento in qui lo andremo ad avvolgere intorno al lamo ci darà un bellissimo effetto di segmentatura del corpo faccio una cosa molto veloce andando avanti faccio questa segmentatura del corpo e poi insomma con la forbice posso andare a rifilare tutte quante possiamo anche lasciarle in realtà però se andiamo a rifilare velocemente tutti i velli che escono dovrebbe venire circa un corpo carino fatto bene e la cosa principale è che sicuramente un dubbing montato in questo modo risulta essere molto più resistente e efficace soprattutto per mosche da caccia che possono catturare tanti pesci durante l'arco della giornata e magari nemmeno cambia ok questo diciamo un esempio banale per montare il dubbing in asola un'altra cosa che possiamo fare sciolgo quanto fatto per far vedere un'altra cosa che possiamo fare uno step successivo a questo è ad esempio facciamo che questo vogliamo sempre fare un tricottero più o meno da caccia anche qui prenderemo un altro tipo di dubbing prendiamo un super fine bianco ad esempio in questo caso però cosa faremo in questo caso lo andremo a fissare uno dei due spezzoni dell'asola ok andremo ad avvolgere questo lo sto facendo col super fine possiamo farlo anche con qualsiasi altro dubbing mi rimane più comodo semplicemente perché si maneggia benino che sta un po scomodo dentro l'asola anche questo lo faccio a titolo esplicativo lo vediamo velocemente adesso prendo una piuma generosa di cul de canard ce l'ho che sarà no questa non è generosa prendiamo quest'altra facciamo un mix andiamo a mettere dentro al mio super magic tool da 1500 euro e facciamo sparare tutte le barbule insieme per poterle prendere con una pinza quindi accoppio accoppio le due piume di cul de canard le inserisco dentro al magic tool i petijan così che ho le barbule pronte per essere messe dentro la pinza gli do una leggera e veloce pettinata prendo le barbule e che cosa faccio adesso cerco di dargli una allargata quindi me le metto qui nella mano e apro e chiudo apro e chiudo apro e chiudo apro e chiudo la pinza leggermente prendo forse mezzo centimetro un centimetro in realtà avevo bisogno di più cul de canard però stiamo vedendo questa cosa velocemente lo metto qui e che succede adesso se io giro il dubbing e il cul de canard avrò avrò un cordoncino un cordoncino con dubbing e cul de canard perché io voglio questa cosa perché adesso con questa faremo il corpo che questo lo vediamo velocemente con il sotto ala per l'ala del tricottero che poi successivamente faremo in cervo e anche un rigaggio marcato del corpo ok ragazzi scusate che sto andando velocemente la sto e non l'ho fatta granché bene doveva venire diciamo più avanti che devo essere più grande la porzione di cdc doveva essere maggiore anche il corpo si è diciamo è a titolo esplicativo non è non sto costruire una mosca e a questo punto se vogliamo possiamo lasciare sotto la parte del cul de canard io preferisco invece andarla a tagliare così in questo modo avremo un corpo un rigaggio nella parte inferiore del corpo nella parte superiore avremo già un sotto ala quindi potremmo mettere solamente il cervo senza dover aggiungere una piuma di cul de canard con il suo calamo che potrebbe darci fastidio soprattutto su ami più piccoli una magia questa me sa che me l'hai mandata proprio te come come se faceva questo cordoncino la riprendo a continuo a fare quello che ho fatto adesso così viene bene e finiamo la mosca insieme in realtà la devo fare io ho fatto già adesso sto semplicemente continuando a fare la stessa cosa che ho fatto antecedentemente quindi sto riprendendo ho rimesso il quindi stesso discorso dubbing e cdc in realtà bastava una mano ma se potrebbe girare direttamente con il twitter invece di utilizzare si lo faccio fai bene questo perché diciamo è un po' grosso che mi dà fastidio se lo sconsiglio pensando che stia facendo la cosa giusta perché a meno di un attrezzo ragazzo uscito nuovo devo appare che si allanghi e si strida se perdi tensione te perdi tutto mentre è molto chissaggio fare quello che sta facendo usato perché il attrezzo per fare l'atola che è morbido e il rischio che si dipende la tensione filo sergiotolico invece lo fermi con la tensione invece guarda la procedura più corretta in assurdo però lo ripeto dipende dalla dall'attrezzino che tu hai per farla in atto io me ne è arrivato ieri quattro ieri uno nuovo che essendo elastico fai in modo tale che tu lo lasci e lui mi metri quale le porti quelle sotto le puoi portare su però tante rimarranno comunque sotto per via proprio che ho fatto con una twistato girando così quelle rimangono intrappolate per quanto le puoi viziare comunque rimangeranno intrappolate ok ma adesso che abbiamo fatto un po' un obrobrio mischiandoci di ci cose io prima di mettere il cervo solitamente preferisco dargli una piccola base con lo stesso dubbing che sto facendo il corpo misera però per evitare insomma che il pelo si poggi solo ed esclusivamente su questi fili che poi questo è un 25 no un 50 denari quindi metto non nulla di dubbing per avere una base migliore di supporto e prendo questo premium yearling elk che poi dopo faccio la mosca ve la faccio girare ve la vedete la mosca è generosa ma con tutto questo sottopelo non andrò a mettere troppo troppo cervo ne prendo comunque una parte in realtà non rimane affogata perché c'è questo cdc la tiene molto su si più per un effetto di ala di insomma la parte galleggiante è data soprattutto dal cdc per farla pattinare per essere più aerodinamica perché tutto questo discorso dei materiali delle asole va anche a favore cioè è tutto pensato per la pesca perché anche se una mosca questa è una mosca generosa è un amo della 14 ma in realtà è molto abbondante della part una mosca quando è leggera ma soprattutto fatta con materiali elastici che vuol dire elastici che frullata in aria che volata in aria comunque la mosca tende a muoversi e questa io posso tirare anche con un filo del 12 e mezzo quindi anche in acque particolarmente cristalline in acque particolarmente lente anche una mosca da caccia una mosca un portato ok una mosca che può essere lanciata con un filo minore ha sempre un vantaggio per noi pescatori non posso sbattere lì ok che dovremmo stare va bene fissiamo questo cervo leggermente più lungo del lamo ok come dice Paolo i primi due giri di assestamento ok faccio un terzo stringo molto forte con pollice indice in modo che non vada avanti e tiro giù il filo poi col fatto che voglio aggiungere l'ennesima asola davanti vado continuo ad andare avanti incastrando quella che è la testina tutti i peli ok esatto a questo punto qualche pelo è volato pure io non sto a casa mia e non ci vedo bene non c'è tutto a modino a questo punto pulisco i peli in eccesso vi do una ciacca dellas come si dice da qualche parte ok perfetto che faccio subito l'asola si ci posso aggiungere adesso faccio una solina e aggiungo sempre un non nulla di dubbing prima di riandare avanti ok va bene non c'è prima niente che non è perfetto però sicuramente no andiamo un po' più davanti che è un po' più paro come lo vogliamo fare davanti l'asola come lo vogliamo fare cdc e cervo lo stesso cdc e lo stesso cervo li mischiamo oppure gallo e cdc io lo farei con lo stesso cervo e il cdc anche solo cervo però abbiamo l'asola vogliamo mischiare questi materiali facciamolo allora Luca Barostelli lo conosciamo tutti lo conosciamo tutti ci ha regalato questa sua idea messa in pratica blendmaster Gianluca pure ne sa qualcosa questo semplicemente è una base dove appoggiare dove mixare tutti i materiali che vogliamo noi mettiamo qui pelo mettiamo cdc mettiamo gallo mettiamo tutto insieme lo chiudiamo ok e dopo ce l'abbiamo pronto per andare a prendere con la nostra pinza e quindi comodissimo le piume due piume quali che ne so gallo una mosca che utilizzo tantissimo per le fimele dopo se vogliamo la vediamo velocemente è la mosca classica ma girata palmer gallo e cdc insieme si prende una piuma di gallo una piuma di cdc le accoppiamo le mettiamo nel magic tool escono fuori le fibre insieme di gallo e cdc e sono favolose perché leggere galleggianti super elastiche quindi anche i cuffili fini si lanciano da dio e adesso proviamo quindi a mixare come abbiamo detto cdc e cervo mettiamo un po' di cdc e di cervo pareggiamo un po' pareggiamo qualche pelo di cervo allora prendo una lunghezza che è circa quella di tre quarti del lamo metà del lamo circa tanto è una mosca da caccia l'importante è che funzioni bene e che ci sia la silhouette quindi per comodità che cosa faccio la inserisco in una pinza circa la lunghezza che mi serve anche un po' di più e a questo punto per lo stesso prima la taglio un po' e ripulisco un po' come abbiamo fatto vedere prima facendo su e giù sul palmo della mano riusciamo ad allargare un po' tutte le fibre senza che si disperdano arrivato a questo punto la mettiamo qui non con poche difficoltà ogni volta divento matto perché prima la fermiamo col dito apriamo la pinza senza muoverci con la pinza riblocchiamo queste e se tutto va bene sono rimaste qua le lasciamo qua che facciamo ora ci mettiamo vicino una bella piuma di cul de canard vaporosa di quelle grandi le possiamo mettere una le possiamo mettere due le possiamo mettere cinque quante ce ne pare io ce ne metto due mezze quindi una vediamo come questa è sottile questa è più vaporosa facciamo un mix un blend vediamo un po' come esce ok la inserisco qui le metto sopra sopra la valle del pelo di cervo chiudo questa arnese e vediamo ok quindi a questo punto vado a rifilare la lunghezza circa di cui ho bisogno e quindi dentro la mia pinza troverò si esatto quindi qui qui abbiamo quindi cervo e cul de canard prendiamo la miglior cera che ci sia in circolazione la cera che la cera che vende cristiana ad un ottimo prezzo buonissima migliore inseriamo un po' perché lì tra cervo e quello tutto insieme vediamo se tiene speriamo eh no ma ovviamente buoni tutti che sembra che regge qui gli diamo una bella girata ed ecco qua che abbiamo cordoncino di pelaccio cioè vai farlo girare quindi il pelo è cul de canard che insomma tutti conosciamo le loro caratteristiche di galleggiabilità e a questo punto con 25 50 denari scappa via lo vizziamo un po' da un lato ci aiuta semplicemente a farlo sparare meglio ortogonalmente con l'assa del lamo e semplicemente lo giriamo palmer esattamente esattamente io sono amante io sono amante della pesca in alta montagna quindi nei torrenti e per forza le cose gli insetti sono questi facciamo due tre nodini così ok ok quindi le caratteristiche di questa mosca sicuramente sono galleggiabilità comunque questi due materiali a me mi sembra anche in aria vola molto molto bene e secondo me è anche abbastanza come si dice che ci assomiglia un po' a narbicorne o comunque insomma a sti tricotteri un po' più grossi da caccia ok e io vi consiglio adesso ve la faccio girare lanciatevela sulle mani perché voglio ricordarmi al discorso cioè aprire bene gli occhi sul fiume e poi quando siamo al tavolino al morsetto uguale apriamo gli occhi tocchiamo i materiali cerchiamo di capirli proviamoli perché la mosca non deve essere per forza uguale all'insetto è importante la silhouette ma è più secondo me è più importante il suo comportamento in acqua quindi la meccanica dei materiali e il loro comportamento poi non tutte le acque sono uguali per questo anche la differenzazione dei vari tipi di cdc i vari tipi di cervo come ha detto Paolo perché l'acqua che c'è su un shock stream non è un'acqua che c'è su un torrente a 2000 metri l'acqua in un certo modo a 800 metri in un altro quindi il discorso asola era semplicemente per avere un focus sui materiali tutti vi faccio girare la mosca io comunque ho terminato insomma quello che volevo farvi vedere grazie a tutti grazie a tutti